Signor Sandro, avviciniamoci. Il microfono del presidente. Diciamo lei è presidente di una cosa che ha sede a Roma. Proprio qui. E' il decimo lo dice, il decimo è 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 il decimo. E questo è non solo il presidente, ma anche il decimo è il decimo. Vorrei dirvi, cari amici, prima che pronunpiate i urli un po' maleducati, che voi siete solo fortunati che il signor Medici sia presidente. Perché nella mia città il presidente questa sera non ha organizzato un cazzo. Alcuni sono stati obbligati a venire a Roma e a divertirci un po' con gli amici. Per cui fatevi un bel applauso. Io sono qui per ringraziarvi, per ringraziarvi di essere le mani in questa sera a festeggiare con noi. E a rispettare questa mezzanotte, questa ora X, per il titolo del nostro concetto. E' un profitto per ringraziare anche questi splendidi musicisti che sono venuti stasera con noi. I musicisti che hanno suonato prima di loro, il banno e il bardo. E' un augurio, un augurio che tutti i vostri desideri del prossimo anno sbossano esaudire. Vorrei aggiungere anche un'altra cosa. Vorrei che stasera un po' del vostro sentimento in questo momento di festa e di allegria andassi anche a quei poveri ragazzi che sono morti nella fabbrica di Torino. Forse lo sapete già, ma a Torino stasera non ci sono feste. Perché lì hanno deciso di non festeggiare per ricordare questi poveri ragazzi. Allora mi invito a poterlo pensare a vincuore, a sperare che il prossimo anno sia un anno dove non ci siano più morti sull'amore. Il mio orologio purtroppo è ancora sul fuso del Nord Italia, quindi in realtà il suo è già mezzanotte. Però qui so che arriva 4 minuti dopo, 3 minuti dopo. Io farei così, tanto siamo artisti. 5, 4, 6, 2, 1 L'urologio purtroppo! Fai buo! Giratevi tutti da quella parte perché sono un spettacolo di fuochi! 5, 2, 3, 5, 6! La scuola! La scuola! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, auguri! In memory of Carcobay! 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 In memory of Carcobay!